Quindi vuol dire che il nostro equilibrio di Nash è questo. Quello è il nostro equilibrio di Nash. L'equilibrio di Nash è la miglior risposta alla strategia altrui. Quindi, se volessimo dare una definizione a l'equilibrio di Nash, l'equilibrio di Nash è l'equilibrio che si ottiene quando ogni giocatore sceglie la miglior strategia in risposta alla strategia altrui. Come scorciatoia anche per gli esercizi, quella praticamente dove entrambi i numeri sono sottolineati. È una scorciatoia, ok? Non ditela in questo modo, però almeno è un modo per capire come fare l'esercizio. Qui c'era una particolarità. Qual era la particolarità? La particolarità è che se ci fai caso, il giocatore 2 aveva sempre scelto A. Cioè, se il giocatore 1 avesse scelto A, eri qua, e il giocatore 2 conveniva a scegliere A. Se il giocatore 1 avesse scelto B, eri qua, e al giocatore 2 sarebbe convenuto scegliere A un'altra volta. Quindi diciamo che il giocatore 2 avrebbe scelto A a prescindere dalla scelta del giocatore 1. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che il giocatore 2 aveva una cosiddetta strategia dominante. Andiamo a vedere cosa vuol dire. Una strategia dominante è una strategia scelta dal giocatore a prescindere dalla strategia scelta dall'altro giocatore. Il giocatore 2 avrebbe scelto A a prescindere dalla scelta del giocatore 1. Ma se ci facciamo caso, pure il giocatore 1 aveva una strategia dominante perché ha sempre scelto B. 4 e 3. Mai 3 e 2. Cioè mai A. Sempre B. Quindi anche il giocatore 1 aveva una strategia dominante. Ecco, quando l'equilibrio di Nash viene da due strategie dominanti, viene chiamato equilibrio dominante. Quindi equilibrio dominante, equilibrio che si ottiene se entrambi hanno strategie dominanti. Ecco il gioco in maniera completa. Quindi abbiamo visto cosa vuol dire strategia dominante. Abbiamo visto cosa vuol dire equilibrio dominante. Abbiamo visto cosa vuol dire equilibrio di Nash. Ma che vuol dire ottimo paretiano? L'ottimo paretiano è una situazione in cui non c'è possibilità di muoversi per migliorare il payoff di un giocatore senza peggiorare il payoff dell'altro. Ma che vuol dire? Torniamo qua. Questo era il nostro equilibrio di Nash. C'è modo di muoversi da qua? Muoversi da qua vuol dire muoversi invece che stare qua. andare o qui o qui o qui. Cioè in uno degli altri tre quadranti. C'è modo di muoversi migliorando il payoff di uno ma senza peggiorare il payoff dell'altro? Vediamo. Allora se ci spostiamo in questo alto beh il giocatore 2 migliorerebbe perché passa da 3 a 4 ma il giocatore 1 passerebbe da 4 a 3. Quindi diciamo che lui migliora ma lui peggiora. Se passiamo da qua a qua il giocatore 1 peggiora perché passa da 4 a 2. Se passiamo da qua a qua peggiorano entrambi perché da 4 a 3 e da 3 a 2. Quindi siccome noi non possiamo muoverci da qua e migliorare il payoff di uno senza peggiorare il payoff dell'altro allora questo viene chiamato ottimo paretiano. Ti faccio l'esempio opposto. Guarda questo. Cosa succede? Che tu sei qua ma se ci fosse la possibilità di muoversi da questo quadrante e andare per esempio qua cosa succede? Che vai a migliorare il payoff di 2 del giocatore 2 perché passi da 2 a 4 e passi per il giocatore 1 da 3 a 3. Quindi diciamo che non vai a peggiorare il payoff di uno. Quindi in questo caso tu hai la possibilità di muoverti da qua migliorando il payoff di uno senza peggiorare il payoff dell'altro. Ecco, in questo caso questo non è un ottimo paretiano. Ciao, scusa l'interruzione ma se il video ti sta aiutando ti invito a mettere mi piace e a schiacciare la campanella così sarai sempre aggiornato quando escono dei nuovi video. Vado via. Buona continuazione. Ciao. Quindi la scorciatoia è la domanda che ti devi fare è posso muovermi da qui migliorando uno senza peggiorare l'altro? Ok. Se la risposta è sì quello non è un ottimo paretiano. Se la risposta è no quello è un ottimo paretiano. Chiudo questa parte del corso con un piccolo extra. A volte potresti risolvere il gioco con eliminazione iterata cioè può chiederti l'esercizio. Cos'è una strategia iterata? È un metodo per trovare l'equilibrio di Nash andando ad eliminare le strategie dominate. Ti ricordi prima che abbiamo detto che entrambi i giocatori avevano delle strategie dominanti? Ecco adesso noi andiamo ad eliminare le strategie dominate. Ti faccio un esempio. Guardiamo il giocatore 2. Se tu guardi il giocatore 2 quando sceglie A può ottenere o 4 o 3 a seconda di quello che fa il giocatore 1. Se sceglie B può ottenere o 3 o 2. Cosa noti? Che la strategia A domina la strategia B perché se lui sceglie A ottiene o 4 o 3. Se sceglie B ottiene o 3 o 2. Quindi comunque va da 4 è maggiore di 3. Quindi se il giocatore 1 sceglie A comunque 4 è maggiore di 3 A conviene. Se il giocatore 1 sceglie B comunque 3 è maggiore di 2. Quindi a quel punto la strategia A conviene anche se il giocatore 1 sceglie B. Quindi come abbiamo visto prima la strategia A conviene sempre. Quindi la strategia A domina la strategia B. Ok? Se qui ci fosse stato ti faccio un esempio 5 allora non valeva più. Perché? Perché la strategia A conveniva quando 4 era maggiore di 3 cioè quando il giocatore 1 sceglieva A. Ma se il giocatore 1 avesse scelto B la strategia A non conveniva più perché 3 è minore di 5. Quindi noi andiamo ad eliminare questa strategia dominata e otterremo questo. Cioè abbiamo eliminato la parte B. Adesso passiamo all'altro giocatore. L'altro giocatore noi vediamo che a questo punto lui sceglie solo A quindi non c'è grandi diciamo grandi sforzi da fare. Si vede subito che se il giocatore 1 sceglie B a 4 se il giocatore 1 sceglie A a 3 4 domina 3 quindi la strategia A è dominata e quindi abbiamo eliminato anche questa la strategia A e abbiamo trovato il nostro equilibrio di Nash. Benissimo ci vediamo nella prossima parte del corso per vedere i giochi sequenziali. Bene questa è solamente la prima parte del corso che abbiamo creato abbiamo deciso di pubblicarla per comunque darti del valore gratuito e darti delle informazioni che ti possano servire. Se vuoi il corso completo ti ho lasciato sotto il link basta cliccare andrai nella nostra piattaforma e-learning e lì troverai il videocorso completo. Ciao